Campo Basso si paventa una situazione di forte criticità per il reparto di ortopedia dell'ospedale Cardarelli. Se non dovessero sopraggiungere novità a breve infatti si rischia di andare incontro al blocco degli interventi chirurgici. Dal primo novembre di fatti l'attuale primario dell'unità operativa complessa andrà in pensione e pertanto non sarà più presente presso la struttura ospedaliera. Finora in base all'attuale strutturazione dell'organico è stato l'unico medico che effettuava gli interventi chirurgici. Il suo successore, vincitore di concorso, è già stato individuato. Si tratta di uno specialista già in forze all'ospedale maggiore di Bologna, tuttavia non si sa ancora quando prenderà effettivamente servizio. Nel frattempo si potrebbe aprire quindi un intervallo di tempo in cui il reparto di ortopedia potrebbe restare sprovvisto di medici dedicati agli interventi chirurgici. Ciò significherebbe poter trattare solo le fratture che non necessitano di operazione con ripercussioni non soltanto per l'utenza del capoluogo di regione delle aree limitrofe ma anche per i pazienti delle zone di Isernia e Termoli. Essendo un ospedale regionale infatti il Cardarelli esegue gli interventi chirurgici che per tipologia e protocolli non possono essere effettuati presso le altre strutture ospedaliere regionali. Ad esempio è il caso di pazienti di età inferiore ai 12 anni che in base alle attuali normative devono essere operati presso strutture ospedaliere con DEA di livello superiore.